buongiorno bambini oggi impariamo a svolgere le addizioni con i numeri grandi tipo 357 più 496 sì piano piano arriviamo anche a quelle ma iniziamo da quelle più semplici per calcolare la somma di numeri grandi per esempio 23 più 31 non possiamo più fare affidamento sulle dita delle nostre mani ci servirebbero troppe mani dobbiamo quindi imparare una nuova tecnica l'addizione in colonna dobbiamo innanzitutto costruire una tabellina come questa in cui mettiamo una colonna per le unità e una colonna a sinistra per le decine ora prendiamo i due numeri che dobbiamo sommare e coloriamo in blu le unità in questo caso 3 e 1 e in rosso le decine 2 e 3 a questo punto inseriamo questi numeri nella tabella mettiamo le unità nella colonna delle unità e le decine nella colonna delle decine è importantissimo riuscire a collocare nella colonna giusta le cifre delle decine e quelle delle unità altrimenti non possiamo fare l'addizione ora possiamo andare a fare le somme per prima cosa sommiamo le unità con le unità come siamo abituati quindi 3 più 1 che fa 4 questo risultato lo scriviamo nella colonna giusta ovvero quella blu delle unità poi possiamo sommare le decine 2 più 3 fa 5 questo risultato va messo nella colonna giusta ovvero quella delle decine segnata in rosso ecco allora che abbiamo ottenuto il risultato della somma 23 più 31 che fa 54 robotto lo stai calcolando calcolato 357 più 496 fa 853 super è la somma difficile che ho proposto io robotto stavamo calcolato 23 più 31 ora sono stanco ciao non fidiamoci troppo del calcolo di robotto proviamo a farlo noi per calcolare 357 più 496 dobbiamo creare una tabellina con tre colonne le unità che segniamo in blu le decine che segniamo in rosso e le centinaia che segniamo in verde coloriamo quindi le unità di blu il 7 e il 6 e posizioniamo le nella colonna giusta una sotto l'altra poi coloriamo in rosso le decine il 5 e il 9 e posizioniamo le nella colonna rossa infine ci restano da colorare le centinaia 3 e 4 che metteremo nell'ultima colonna e adesso che abbiamo incolonnato bene tutto possiamo iniziare partiamo di nuovo dalle unità e sommiamole 7 più 6 fa 13 questo 13 però non possiamo metterlo nella colonna delle unità perché è composto a sua volta da tre unità e una decina quindi si procede in questo modo scriviamo l'unità cioè il 3 nella colonna blu delle unità e ci teniamo da parte l'uno ricordando che è una decina quindi andiamo a scriverlo piccolino sopra le decine questa operazione è detta riporto e ci serve per ricordarci che abbiamo una decina in più da sommare ora passiamo alle decine 5 più 9 fa 14 più il riporto di 1 che abbiamo segnato piccolino in alto quindi sommiamo ancora 1 e otteniamo 15 di nuovo 15 è formato da due cifre e non possiamo scriverlo sotto le decine scriviamo quindi 5 nella colonna rossa delle decine e ci segniamo un riporto di 1 sopra le centinaia sommiamo quindi l'ultima colonna 3 più 4 fa 7 aggiungiamo il riporto di 1 otteniamo 8 in totale la somma sarà quindi 853 853 è quello che ho detto io beh per una volta robotto sei riuscito a sorprenderci e ora bambini per concludere vi lascio provare da soli l'addizione in colonna provate a calcolare 350 più 187 oppure 222 più 563 ricordatevi di segnare il riporto alla prossima